Grazie al progetto trasfrontaliero europeo MEN Excellent Mediterranean Net, coordinato da GAL Terre di Aci, che vede capofila il comune di Aci Reale, oltre 100 giovani siciliani hanno vissuto un primo semestre di formazione e lavoro retribuito a Malta, aprendo nuove opportunità di sviluppo nel Mediterraneo. Se sei interessato a saperne di più e ad affacciarti negli ambiti lavorativi di Blue Economy, ecosostenibilità e turismo, o se sei un'azienda interessata ad assumere, partecipa al Career Day. Previsto il prossimo 14 settembre allo spazio convegni Angolo Paradiso della Villa Belvedere di Aci Reale e il 15 settembre nei locali che vedranno l'inaugurazione del Living Lab di Aci Reale, un nuovo hub dedicato all'innovazione e allo sviluppo. Non perdere l'occasione di conciliare domande e offerte di lavoro tra istituzioni e territorio. Per maggiori informazioni sull'evento, consulta il sito web di profili social del GAL Terre di Aci. Per approfondire il progetto MEN e candidarti per domande o offerte di lavoro, iscriviti su portale.italiamalta.men.comune.acreale.ct.it. Ti aspettiamo!